Musica Ben ritrovati, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di volontariato attraverso il presidente della sezione AIL di Udine, Giuseppe Gioffre, che ringraziamo per essere ritornato nei nostri studi. Giuseppe Gioffre era venuto qui, aveva partecipato alla nostra trasmissione per parlarci delle giornate dedicate appunto all'AIL con questi appuntamenti 3, 4 e 5 di dicembre in piazza. La raccolta avviata dall'AIL sulle piazze però in questi giorni sta continuando, infatti dall'8 dicembre in poi si potrà ricevere direttamente a casa la zalea oppure gli oggetti insomma che vengono ordinati direttamente sul vostro sito. Intanto buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Isabella e grazie ancora agli telespettatori. Ecco quindi dall'8 dicembre in poi vi state organizzando. Esatto, stiamo raccogliendo le prenotazioni appunto fino all'8 e poi dal 9 al 22 con i nostri volontari e gli amici dell'associazione Angeli in Moto porteremo le piante, le stelle di Natale, sempre col solito pacchettino di caffè in regalo e le palline di Natale che le persone hanno prenotato o direttamente tramite i numeri di telefono o direttamente sul sito a casa loro a domicilio. Io tra l'altro ho visto in passato che c'è la possibilità di fare un regalo a distanza, quindi la possibilità che una persona prenoti da noi, paghi da noi e poi dica mi portate questo a qualcuno come regalo di Natale e possiamo farlo. Ecco tra l'altro vedevo, insomma avete tanta fantasia, festeggia le ricorrenze più importanti della tua vita con un gesto di solidarietà in occasione di nascite, battesimi e matrimoni. Guardate che cosa si può fare, quindi non serve aspettare la zalea, non serve aspettare Natale o Pasqua, tutto l'anno se si vuole si può donare. Tra l'altro l'obiettivo quest'anno è particolarmente ambizioso perché già la volta scorsa vi avevo parlato dei progetti per il 2022, un preventivo di spesa per sostenere la ricerca di 153 mila euro e un preventivo di spesa per adeguamento strutturale della clinica ematologica di 250 mila euro. Quindi per forza di cose dovete inventare per cogliere, per diversificare le proposte. Ma è l'aiuto che ci vengono dall'inventiva e dall'iniziativa dei volontari, in questo caso le bomboniere, le bomboniere vengono fatte a mano da una nostra dipendente, da Antonella, e vengono fatte sulla base proprio dei desiderati delle persone. Lei ogni volta che fa le bomboniere per qualcuno si tiene due o tre pezzettini in più e, ripeto, le fa a mano, per cui chi ha la possibilità, ha la voglia di fare delle bomboniere può nello stesso tempo fare un piccolo aiuto per noi per la ricerca. Difatti le abbiamo chiamate le bomboniere della ricerca. Sono veramente carine, le abbiamo mostrate ancora. Senta, abbiamo detto che questa oggi è l'occasione per parlare di volontariato. Quanto è difficile fare il volontario? Perché uno dice, faccio volontario, dedico un po' del mio tempo libero appena posso, lo dedico a chi ha bisogno. Allora, noi non diciamo che è difficile fare il volontario. Noi invitiamo tutte le persone che hanno voglia di dare un po' del proprio tempo, senza nessun vincolo, in maniera gratuita, a fare i volontari. Il volontario può essere la persona che dà un'ora del suo tempo, anche durante tutto l'anno, in un banchetto per le stelle o per le voce di Pasqua, o che può svolgere un'attività sulla base di quanto tempo ha e sulla base di quello che si sente di fare. Quindi chi vuol fare il volontariato è ben accetto ed è invitato a venire a trovarci nella nostra sede, tra l'altro nella nostra nuova sede di Via Ramandolo 20, per dare del proprio tempo e fare una piccola chiacchierata su quello che si può fare. Noi aspettiamo e accettiamo tutti i volontari. È chiaro che nel momento in cui questa persona vuole fare un po' di più, e allora bisogna cominciare a strutturare un po' un percorso. Abbiamo in mente di fare una scuola del volontariato, che già là il nazionale da tempo sta facendo, quindi a formare i nostri volontari. Ma il problema del volontariato è un problema dell'associazione. E mi spiego. Non sono più i tempi in cui bastava fare un qualcosa e le regole erano relativamente semplici. Oggi le associazioni sono tutte inserite nella legge terzo settore e devono adempire a determinati obblighi e questi obblighi ci costringono ad avere delle spese che riguardano la tutela, riguardano l'assicurazione sui volontari, riguardano la formazione, riguardano tutto quello che in un'associazione non dovrebbe essere ma che purtroppo fa molto assomigliare a una piccola azienda. Questo che cosa fa? Da un lato toglie risorse all'associazione perché noi ci dobbiamo fidare a dei professionisti, non possiamo avere il volontario che fa la consulenza del lavoro, quindi noi abbiamo professionisti che ci aiutano e sono delle risorse e abbiamo l'impegno di, ripeto, formare, informare e salvaguardare il volontario in tutte le sue attività anche con un'assicurazione ad hoc, anche se il volontario fa solamente un'ora. Poi la legge del terzo settore ha imposto determinate regole per cui noi abbiamo un consiglio di amministrazione, già lo stesso nome fa capire quanto sia poco di volontariato e quindi le associazioni hanno questa difficoltà, riuscire con le risorse che loro riescono ad avere a superare questi problemi e continuare a fornire i fondi per il nostro scopo principale che sono quei fondi che vengono raccolti appunto dalle manifestazioni, dalle donazioni che devo dire comunque a Udine sono state cospicue e l'ho già detto ma mi ripeto, quella signora che è mancata purtroppo quest'anno che senza che fosse conosciuta l'associazione ha deciso la maestra Graziella Pecile di dare la sua abitazione in eredità e ci ha consentito di fare un grosso lavoro di ristrutturazione nelle case e ci ha consentito anche di guardare con serenità il futuro perché sono momenti importanti di donazione. Purtroppo però le associazioni hanno questo problema di dover risolvere varie questioni come se fossero una piccola azienda. Sì, sì, quindi è abbastanza difficoltà. E senta, anche in periodo adesso di pandemia, come, sì, cosa fate, come fate? Allora, noi l'anno scorso a marzo quando c'è stata la prima parte del lockdown è chiaro che ci siamo fermati tutti quanti. Poi devo dire che l'AIL ha una struttura nazionale che è a Roma mentre le sezioni provinciali e le sezioni sono 82 sono completamente autonome sotto ogni punto di vista, giuridico, amministrativo, contabile, per cui quello che noi facciamo a Udine e prossimamente anche a Gorizia sarà sempre su Udine e Gorizia. Però l'AIL nazionale ha una struttura più complessa e ha dato delle indicazioni. Noi dopo una settimana abbiamo ricominciato a fare esattamente le cose che facevamo prima. Non siamo andati in piazza con le uovo di Pasqua, le stelle di Natale 2020 e le uovo di Pasqua 2021, abbiamo inventato questa forma del domicilio e nello stesso tempo abbiamo continuato a fornire assistenza alle persone nelle case AIL, chiedendo in quel momento la negatività al Covid e adesso praticamente il Green Pass o la vaccinazione o comunque quello che le norme dicono, in modo tale da essere sicuri loro in primis, ma anche noi, anche i volontari che sono lì vicini, non abbiamo più potuto, come tutti, d'altronde, riuscire a essere più vicini ai pazienti all'interno dell'ospedale, perché questo è stato impedito. Però noi c'eravamo dietro e con tutte le precauzioni del caso abbiamo ricominciato. Tant'è vero che i casi di positività all'interno del gruppo dei soci e dei volontari sono stati minimi e nessuno riconducibile ad attività di volontariato. Ecco, e questo è molto importante. E questo è importante perché, beh, devo dire Isabella che noi ex pazienti ematologici con la mascherina ci eravamo abituati a convivere, perché quando si vedeva una persona con una mascherina generalmente era una persona che stava superando determinate patologie, quindi per noi non è stato difficile seguire le indicazioni. Tutti noi ex pazienti sappiamo cosa vuol dire una immunodepressione acquisita da cure chemioterapiche che incidono sul sistema immunitario e quindi l'attenzione alla pulizia, all'igiene personale, alle mascherine, quindi la pandemia in questo caso non ci ha accolto alla sprovvista. La pandemia però ci ha insegnato tante cose. Da un momento che può essere considerato molto negativo, noi abbiamo imparato e abbiamo anche imparato cosa potrebbe essere il nostro contributo come associazione nell'ambito della sanità regionale, perché per esempio noi per anni abbiamo parlato di assistenza domiciliare, di medicina sul territorio, quando magari si andava verso un'altra parte. E quindi siete resi conto che erano aspetti indispensabili. Importanti, indispensabili e a maggior ragione in questa situazione pandemica che purtroppo è ancora in atto, la possibilità di sgravare l'ospedale di tanti impegni con, ripeto, incentivando l'assistenza domiciliare. Noi da Udine, questo è un vecchio cavallo di battaglia della signora Santuzzi che ringrazio ancora per tutta la sua opera dall'89 al 2020, cercheremo prima o poi di riuscire a farla perché riteniamo che sia di grande aiuto, soprattutto per i pazienti, poter far qualcosa a casa senza spostarsi e che è importante in questo momento. Sì, quindi voi avete in un certo qual modo anticipato dei tempi, ma effettivamente le istituzioni si stanno rendendo conto di quanto possono imparare, quanto possano imparare dai volontari, da chi è sul territorio. Esatto, noi, ripeto, siamo non tantissimi durante l'anno. Quindi già dei modelli che possono essere presi, ad esempio. Esatto, perché tenga conto che i contatti con tutte le altre sezioni AIL sono costanti, i contatti a livello nazionale sono costanti, quindi c'è uno scambio, un interscambio di esperienze in ambito regionale con Pordenone, con il mio amico Aristide Colombera, con Trieste, con l'avvocato Tiziana Benussi. Ma non solo, cerchiamo, quando ci vediamo e ci sentiamo, di imparare dagli altri e sicuramente la pandemia, ripeto, ha creato parecchi problemi, però ci ha dato delle indicazioni su come superare questi problemi e anche cercare di migliorare in futuro l'assistenza nei confronti dei pazienti e dei loro familiari. Io parlo a livello ematologico, ma poi non penso ci siano grosse differenze anche a livello oncologico o di altro genere. Bene, ringraziamo il presidente della sezione AIL di Udine, Giuseppe Gioffre. Ringrazio anche voi amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, salute e benessere, ci vediamo alla prossima puntata, giovedì, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.